Aia! Ciao ragazzi! Tra un 20 minuti circa dovrebbe arrivare qua in questa casa il mio amico Il mio amico con il quale filmo tutti i miei prank E mi sono detto perché non fargli un prank a lui Non so quanto ci possa cascare perché lui praticamente ha girato il 90% dei miei prank Quindi sarà molto molto difficile Cosa farò? Ed ieri sera che gli scrivo che comunque sento dei rumori strani nelle scale Oggi quando entrerà, mi troverà sdraiato a terra, ma non sarò io, sarò un pupazzo, ora vedremo come fare La casa mezza rotta, il sangue a terra, ketchup Ora vi faccio vedere la mia povertà C'è nascosta l'iPad in cui dovrei filmare Perché la porta è qua, quando entri non ti sale l'occhio sull'iPad, spero Anche perché troverà le mie gambe davanti Quindi camminerà dritto la porta mezza aperta, quindi non dovrebbe farci caso Mentre l'altra videocamera è qua nel cassetto Ora la coprirò con degli stracci o qualcosa E tanto qua poi la sedia sarà a terra, sarà tutto a terra distrutta In modo che non gli cade subito l'occhio Io dico sta arrivando davvero Forse un quarto d'ora è qua Quindi devo fare tutto alla Spiriconzale Ok, mi ha appena scritto che sta per arrivare Io non vi ho detto una cosa però Lui è sordo Quindi il fatto che io possa arrivare da dietro e catturarlo È molto più facile Anche se secondo me non ci riuscirò mai La situazione è questa Borsa alla palestra Io ho finto molto con le gambe Cioè quando lui arriva Vederebbe i gambe così Il sangue è finto E boh, ora aspettiamo e vediamo dove nasconderci però Che cazzo fa' Ehi Che cazzo fa' Che cazzo fa' Ehi Oh, aia! Ah, ma sei scemo! Ah, hai fatto... Aia! Che ti imparvi, eh? Un po', ci hai creduto? Un pochettino all'inizio quando è riuscita la roba... Sputtate lì! Per quanto mi è venuta in mente! Ma da cosa che? Ma da cosa che mi hai fatto... E dai... C'è il fiatone! Al fiatone! Ma perchè ho un corte per l'incale! Perchè ti sei preoccupato? Perchè gli ho scritto un messaggio che stavo male Chiama a Bulaccia Sono passati dieci minuti dal prank Io ho sbattuto la testa fortissima a terra E la cosa brutta E' che ho fatto tantissimi Ah, le fitte! Tantissimi prank Ho fatto nella mia vita E l'unico che mi ha fatto davvero male E' stato il mio amico E' bruttissimo essere picchiati proprio Dall'amico che ti sta filmando anche adesso E prima di fare questa clip qua Mi stava pure prendendo in giro del ghiaccio Merda!